Bentornati in studio, siamo a Comiso in apertura di questa seconda parte di Free News dove a rischio il centro regionale recupero fauna selvatica e tartarughe marine. I tagli messi in atto dalla regione stanno creando enormi disagi al centro che rischia la sospensione delle attività di recupero a causa della grave mancanza dei fondi. Con una lettera indirizzata tra gli altri al presidente della regione Raffaele Lombardo e all'assessore regionale alle risorse agricole e alimentari, direttore del centro di Comiso Gianni Insacco, ha espresso le difficoltà nella continuità delle attività di recupero del centro stesso dovute all'esigua somma destinata per l'anno 2011 pari a 32.500 euro per la gestione del funzionamento dei centri regionali recupero fauna da dividere tra quello di Comiso e quello di Ficuzza nella provincia di Palermo. È insufficiente a garantirne le attività di routine, di funzionamento e di gestione. In questo caso ovviamente il centro fra i tanti compiti è anche il centro regionale di recupero della fauna. Quindi quest'anno ci hanno lasciato veramente minimi termini, hanno dato soltanto 8.500 euro, non bastano neanche per i primi due mesi. Gli animali sono stati gestiti grazie alla convenzione che abbiamo con la provincia regionale di Ragusa, che peraltro ha fatto il massimo che poteva. E quindi tanto di cappello e grazie anche all'azienda ospedaliera, all'Asp di Ragusa, che ovviamente ci fornisce i farmaci e il veterinario. Per il resto la regione, che dovrebbe essere la madre del centro di recupero della fauna, in realtà ci ha abbandonato. Come è noto la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e quindi protetta da apposite leggi nazionali, regionali e regolamenti comunitari. I centri di recupero della fauna selvatica, riconosciuti dall'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, hanno accolto, assistito, riabilitato e reintrodotto in natura migliaia di esemplari appartenenti alla fauna selvatica, vittime di bracconaggio o di traumi accidentali, coinvolgendo e sensibilizzando positivamente l'opinione pubblica, anche attraverso le migliaia di visite guidate e attività didattiche effettuate presso i centri, con un notevole ritorno mediatico per la regione siciliana in politica di tutela ambientale. Il rischio chiusura di un centro importantissimo, quale è quello casmeneo, metterebbe a rischio la sopravvivenza stessa di moltissimi esemplari di animali di specie protetta. Il centro di recupero della fauna selvatica è sicuramente una preziosità nel panorama della fauna selvatica e della tutela della fauna. E' opportuno che la regione siciliana si faccia sapere cosa intende fare con la fauna selvatica. Parliamo adesso delle grandi opere infrastrutturali. Il segretario dell'Ust Cisle di Ragusa, Enzo Romeo, ha avuto un incontro con il presidente della provincia, Franco Antoci. Sentiamo nel servizio quali novità ci sono in materia. Enzo Romeo, segretario dell'Ust Cisle di Ragusa, interviene sulle opere infrastrutturali della provincia. Non solo notizie negative, dice, qualche rassicurazione sul futuro delle grandi infrastrutture comincia ad arrivare. La questione è stata oggetto di un confronto tra Romeo e il presidente della provincia di Ragusa, onorevole Franco Antoci. Dopo le legittime preoccupazioni emerse in queste ultime settimane, sostiene Romeo, è ormai evidente che per quanto riguarda il decollo dell'aeroporto di Comiso, il raddoppio di carreggiata della Ragusa-Catania, la realizzazione dei lotti sino a Modica dell'autostrada Siracusa-Ragusa-Gela, siamo al dunque. Antoci ci ha spiegato, continua il segretario, che grazie al parziale utilizzo dei fondi ex Insicem sarà possibile attivare quanto prima le opere per il collegamento dell'aeroporto alle varianti della SS-514, prevedendo un raccordo anche con l'innascente autoporto di Vittoria. È la circostanza da sottolineare che queste realizzazioni saranno fatte proprio con fondi del territorio. Una critica finale è stata però sollevata da Romeo e riferimento è all'assenza pressoché totale della ferrovia. La provincia regionale di Ragusa ha firmato un protocollo d'intesa con il CNR di Torino per la preparazione di un progetto che riguarda la realizzazione di un centro specializzato per il settore lapidio all'interno delle laboratorie di geotecnica e di geognostica già presente a Ragusa. Vediamo. È stato siglato questa mattina a Ragusa presso l'assessorato provinciale territorio e ambiente un protocollo d'intesa tra il CNR di Torino e l'ente di Viale Delfante. L'obiettivo dell'accordo è di avviare un progetto denominato Centro di Ricerche di Innovazione e Materiali Lapidei che prevede la realizzazione presso la sede dell'assessorato di un centro specializzato con il compito di favorire la diffusione dell'innovazione nella lavorazione e nella commercializzazione dei materiali lapidei di pregio. Successivamente si procederà alla realizzazione di un laboratorio che andrà ad implementare la struttura di geotecnica e di geognostica della provincia regionale già esistente. A firmare il protocollo questa mattina sono stati per l'ente di Viale Delfante il presidente Franco Antoggi e l'assessore Salvo Mallia. È sicuramente qualcosa che ci fa molto piacere perché questa collaborazione così prestigiosa rende onore a tutti gli sforzi che in questi anni si sono fatti per portare avanti il nostro laboratorio alla sua qualità, alla professionalità dei suoi dipendenti e dirigenti e quindi per noi è un motivo di grande orgoglio. È un passaggio ulteriore ed è un'implementazione dei servizi che il nostro laboratorio dà al territorio che può dare al pubblico e che dà anche ai privati perché siamo disponibili anche alla collaborazione e a fornire prestazioni ai privati. Questo accordo riguarda la certificazione dei prodotti lapidei. Si daranno dei consigli per l'estrazione del prodotto stesso. Per il CNR di Torino a firmare il protocollo è stato il professore Giorgio Iapichino. Questa è un'occasione che speriamo di non mancare ed è sicuramente un ottimo e valido aiuto ritengo per tutte le imprese che possano essere coinvolte nell'ambito produttivo della pietra sia da costruzione sia ornamentale. Cambiamo decisamente argomento. Il presidente della provincia regionale di Ragusa, Franco Antoci, è ai primi posti della particolare classifica che calcola l'indice di gradimento da parte dei cittadini per i presidenti della provincia. Naturalmente Antoci non ha nascosto la propria soddisfazione per l'ottimo risultato. Sentiamo. Il presidente della provincia di Ragusa, Franco Antoci, è al tredicesimo posto della classifica nazionale dello studio Monitor Provincia, realizzato da Data Monitor Istituto di Ricerca del gruppo BCE e risulta al primo posto tra i nove presidenti delle province siciliane, con il 60,8% di gradimento, con un 0,5% in più rispetto alla precedente rilevazione di sei mesi fa. La quindicesima edizione della ricerca Monitor Provincia permette così al presidente Antoci di entrare nella cosiddetta top 55, ovvero la classifica dei presidenti della provincia che hanno superato la soglia del 55% di gradimento del loro operato, calcolato sulla base di un giudizio espresso dai cittadini. In relazione all'usinghiero risultato raggiunto, Antoci si è detto lusingato perché giunge al compimento del decimo anno di presidenza, oltre al motivo di soddisfazione per la percentuale di consenso che è superiore al 60% e che attesta un gradimento costante della popolazione iblea. Sono infinitamente grato ai miei concittadini e dichiarato Antoci per l'affetto e la stima che hanno nei miei confronti e questo risultato mi ripaga ampiamente degli sforzi che ogni giorno compio per portare avanti le esigenze della comunità iblea. Esito positivo per il distretto turistico degli Iblei. Ieri l'assessorato regionale al turismo ha infatti approvato il distretto che riunisce 12 comuni della provincia ragusana, ma sentiamo i dettagli in questo servizio. Successo per il turismo ibleo? L'assessorato regionale al turismo ha infatti firmato ieri il decreto per l'approvazione dei distretti turistici siciliani. Tra questi c'è anche il distretto turistico degli Iblei che riunisce i 12 comuni della provincia di Ragusa, nonché 6 limitrofi al territorio ibleo, Rosolini, Pachino, Mazzarrone, Gran Michele, Licodieo Bè, Vizzini, la Camera di Commercio di Ragusa e 10 associazioni private individuate con un mando ad evidenza pubblica. Per il completamento dell'iter di riconoscimento i distretti dovranno adesso fare pervenire all'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto assessoriale sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana l'atto costitutivo e regolamento organizzativo. L'approvazione del nostro distretto turistico da parte del competente assessorato, ha dichiarato il presidente della provincia, Franco Antoci, e la conferma che la scelta operata a suo tempo con la costituzione di un'associazione pubblico-privata è stata lungimirante e vincente. Ora bisogna attivare tutte le azioni e le politiche affinché il distretto possa essere operativo al più presto ed essere motore di sviluppo del territorio. Anche il presidente dell'associazione del distretto turistico degli Iblei, Girolamo Carpentieri, sottolinea l'importante risultato, un riconoscimento strategico per il nostro territorio a vocazione turistica che non poteva perdere questa opportunità. Cambiamo decisamente argomento. Si è svolta oggi a Ragusa la giornata del riciclo. L'iniziativa è stata promossa dal Conai e dal Ministero dell'Ambiente ed intanto nel capoluogo della prossima settimana cambieranno gli orari di raccolta, ma i cittadini non sono particolarmente soddisfatti della gestione e dell'organizzazione del servizio. Sentiamo perché. Si è svolta oggi a Ragusa raccolta 10 più, giornata del riciclo e della raccolta differenziata. L'iniziativa promossa dal Conai e dal Ministero dell'Ambiente mira a sensibilizzare i cittadini sul tema della raccolta differenziata degli imballaggi. Nel corso della giornata gli addetti del Conai hanno distribuito ai cittadini un opuscolo con le regole per migliorare la raccolta differenziata degli imballaggi. È l'occasione servita anche per chiedere ai ragusani cosa ne pensano della raccolta differenziata e se siano meno soddisfatti dell'organizzazione del servizio. Per molti il nuovo orario di ritiro che verrà introdotto nelle prossime settimane, che va dalle 4.30 alle 10.30 del mattino, potrebbe creare parecchi disagi. Ed inoltre sono diversi i cumuli di rifiuti che spesso si formano accanto ai cassonetti, sintomo che i disservizi esistono. Per questo motivo i cittadini chiedono una migliore organizzazione e maggiori controlli. È importante sì, ma bisogna vedere le cose come stanno. Se il tasso è aumentato e l'immondizia è ancora sparsa, a che cosa è servita questa differenziata? Non è servita a nulla. Allora meglio i cassonetti di nuovo, perché io me ne accorgo girando, guarda che quelle che fanno la raccolta, l'immondizia la prendono tutto uguale, vanno a finire tutti e allora che cosa serve questa differenziata? Sì, è importante, però ci vuole un'organizzazione molto più seria. È importante farla, avrebbero potuto iniziare anche prima di farla, senza dubbio, solo che deve essere più organizzata, qui dove abito io, alcune la fanno differenziata e alcune niente. Non è giusto. Però ora, non so, cambia l'orario di uscire fuori nei bidoni. Non so se comporta qualche dissenso nei cittadini, perché di mattina ho letto che cominciano alle 4.30 di mattina, quindi non so se cominciano a fare rumore con le lattine, con le cose, non lo so quello che può creare. Il nostro Tg termina qui, vi ricordo che potrete seguirci anche sul nostro sito all'indirizzo www.freetvonline1.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.